Ancora palla per Anfede, al centro riceve Ambu, riceve Canabic, al limite Canabinic, Angidilla entra in area, viene messa a terra e c'è calzo di rigore, calzo di rigore per attoramento di Milla in area, calzo di rigore quindi per il Camerun, una svolta in questo incontro, rivediamo l'azione, l'intervento è stato di Evuome su Milla e c'è il calzo di rigore quando siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, attoramento di Evuome su Milla, ed è Kunde che si incarica della battuta di questo calzo di rigore, momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi, parte Kunde, destro, tira, gol, splendida l'esecuzione di Kunde e il Camerun è in avvantaggio dopo 10 minuti di gioco. Rivediamo ancora l'esecuzione, perfetta, angolata, nulla da fare per il portiere Rufay, si slocca quindi il risultato, ancora l'inquadratura dall'alto, vedete l'angolazione, l'interno destro del libro della formazione del Camerun è la perfetta realizzazione. Kunde Emanuele Serov, la Nigeria quindi è sotto di un gol, Nigeria che era stata data favorita fino a questa finalissima.